Carissimi, buona domenica sera a tutti. Siamo qui perché un altro giorno è terminato e perché vogliamo dire grazie al Signore sempre, perché ci ha usato misericordia. Domani inizia la novena in preparazione alla festa del Patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi. Io la preparerò così ogni giorno chi vuole insieme a me può farla, sempre qui la trovate sul canale YouTube, ormai potete trovare tante cose. Ma voglio chiedervi una cosa. Noi siamo tanti e molti li ho conosciuti, molti siete venuti a Simeri, molti ci siamo incontrati durante le presentazioni. Vorrei che brevemente però è, chi riesce a farlo naturalmente, scriveste una mail, alla mia mail. Ve la dico adesso, tutto in piccolo, il mio cognome e il mio nome, Cristofaro Francesco, attaccato, 1979, chiocciola gmail.com Scrivetemi chi siete, da dove siete, cosa fate, e così vi conosco quando mi avete conosciuto e così io entro anche di più nella vostra vita. C'è stato un amico che è venuto l'altro giorno a... Oddio, dove sono stato? Alla Pio e dopo la presentazione del libro è venuto con il libro in mano per farsi firmare la dedica e mi ha detto Tutto bello quello che tu fai, bellissimo, ti dico grazie, sicuramente adesso ascolta e sto ridendo, ma ti devo rimproverare di una cosa. Dico, Oddio mio, che cosa ho fatto? Dimmi. E che dici sempre che entri nelle nostre case, ma sia una volta che ti fermi a prendere un caffè a casa nostra? E ho detto, mi sono messo a ridere davanti a tutti, magari chi era vicino ha sentito, chi era più lontano mi ha visto ridere come un matto ma non capiva perché. E vabbè, ha ragione, giustamente. Dici sempre che entri in casa nostra, ma non ti fermi mai per prendere un caffè. E allora, ecco, chi ha piacere di scrivermi lo faccia. Però scrivete mail piccolo, perché se no io mi stanco a leggere. Cristofarofrancescochiocciolagmail.com Va bene? E ora però preghiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ricordo che l'1 ottobre sarò al santuario di Colle Valenza, Beata Madre Speranza. Alle 10.30 sarò lì per portare la mia testimonianza e la presentazione del libro La Speranza che Cerchi. Poi ci sarà anche la Santa Messa. Ciao a tutti, buonanotte, e se Dio vuole, ci vediamo domani. Ciao a tutti.